Parliamo di panna montata e della giusta consistenza per poi utilizzarla nei dolci. Prendiamo della panna liquida da montare, ben fredda, altrimenti non monta. La versiamo in una ciotola e cominciamo a girarla piano piano, però di continuo. Finchè non raggiunge questa consistenza. Se continuiamo a montare oltre questa consistenza, otterremo un effetto contrario perché la panna si affloscia. Grazie. 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 Grazie.